Ma devi buttarlo via! E' tutto! Ma cos'è ancora? Se mi dai con una fiammata ti do nel mare questo telefono lì? Prima che lo metti via ci arrivo! E' mio! E me lo paga un cazzo! No, anzi, lo paga lui! Lo paga un cazzo! Che su, non è neanche mio! Dica stai lui! Oh, oh! Sustogliere che parliamo di vetri fizzati per guadagnare!